A lezione di clima, a lezione centinaia di studenti delle scuole superiori di Pesaro, questa mattina al Cinema Loreto per capire la portata di questa crisi climatica che ci lascia alle spalle un 2022 etichettato come uno degli anni più caldi della storia e anche le strategie di adattamento a questa situazione. Una lezione voluta dal Consorzio di Bonifica delle Marche alla presenza del geologo, climatologo e nivologo di fama internazionale Massimiliano Fazzini. Claudio Netti ci spiega perché il Consorzio di Bonifica ora punta sulla formazione delle nuove generazioni sul tema climatico. Subito dopo l'evento disastroso del 15 settembre del 2023 abbiamo anche pubblicamente avanzato alcune proposte dopo la riflessione su quello che è accaduto e allora abbiamo detto in quella circostanza che bisogna fare qualcosa subito e che ci stiamo affidando troppo alla gestione informatizzata o comunque non in presenza per dare allerte sulle criticità e informazioni sulle cose da fare nell'immediato. Cioè ci rivolgiamo alle scuole, quindi ai giovani, per introdurre il ragionamento che il clima è qualcosa di importante da osservare, i mutamenti climatici sono in atto e quindi creare una sorta di sensibilità. Noi dobbiamo iniziare a formare innanzitutto i giovani. L'educazione ambientale e l'educazione climatologica in questo caso deve essere parte integrante da questo momento in poi del prospetto o del leader di studi anche di un bimbo. Infatti noi stiamo iniziando anche con gli elementari, spesso e volentieri con le scuole primarie, a fare delle piccole lezioni di clima. È fondamentale perché i ragazzi di adesso saranno gli adulti del futuro e abbiamo bisogno delle loro competenze, della loro tecnologia, visto che sono molto più adatti a comprendere un mondo tra i reti tecnologici, l'intelligenza artificiale e via dicendo, ma hanno bisogno di basi. E le basi le dobbiamo dare necessariamente noi che in questo momento abbiamo la possibilità, umilmente, di spiegare loro un po' di cose. Noi pensiamo di innestare su questa semina di carattere generale, con delle lezioni sul clima, su quanto è accaduto anche nella nostra realtà regionale, di innestare un ragionamento un po' più articolato e cioè cominciare a pensare alla formazione di alcuni giovani con la qualifica di meteoreporter e cioè persone, non macchine, che debbono essere presenti sul territorio in occasione degli eventi o dei temuti eventi e che in correlazione con la protezione civile, con il consorzio di bonifica, siano in grado di trasmettere dati reali di quello che sta accadendo con l'osservazione delle nuvole, con l'osservazione dell'andamento delle piovosità, dei venti e quindi creare una rete di persone sul territorio, meteoreporter appunto, che ci danno in tempo reale la situazione nel nostro territorio regionale. Quindi noi pensiamo ad un processo di formazione di giovani che acquisiranno questa qualificazione che saranno gestiti con una app dedicata appositamente a loro, trasferita anche alla regione e alla protezione civile, in modo tale che non siano più solo due occhi o qualche occhio elettronico a guardare quello che avviene, ma siano occhi umani.